Saranno l'esercito iracheno e la polizia federale e nessun altro ad entrare a Mosul. Lo ha affermato il primo ministro iracheno al-Abadi, cercando di chiudere le polemiche sulla presenza dell'esercito turco nelle operazioni per la riconquista della città, popolata a maggioranza da sunniti. Una soluzione condivisa dalle forze kurde, pronte a battersi. Intanto, nelle prime quattro ore dell'offensiva, i peshmerga kurdi hanno strappato all'ISIS il controllo di sette villaggi della provincia. La battaglia coinvolge almeno 25.000 soldati, tra iracheni, kurdi, filoeraniani e filoturchi, contro 4.000 miliziani dell'ISIL asserragliati nella città. Allerta generale per le agenzie umanitarie che si attendono un fiume di profughi. Secondo le Nazioni Unite, potrebbero essere fino a un milione gli iracheni costretti ad abbandonare Mosul durante l'attacco. Mosul, seconda città irachena per popolazione, è anche l'ultimo grosso centro del paese rimasto sotto il controllo dell'ISIL. Nei giorni scorsi un comunicato dei fondamentalisti islamici aveva reso noto che a Mosul l'ISIL ha sventato un'insurrezione tra le sue fila e che 58 ufficiali ribelli sono stati giustiziati.